Medline offre una varietà di servizi logistici che ci rendono non solo un produttore e distributore, ma anche il vostro principale partner, iniziando con la nostra numerosa flotta di veicoli Medline, denominata Medtrans, che offre un maggiore controllo sulla qualità delle consegne, sulla puntualità e sugli autisti. Medtrans è lo strumento perfetto per qualsiasi spedizione che richieda particolare attenzione, aiutandovi a risparmiare spazio e tempo. Offriamo tre diverse opzioni di consegna che consentono di ottimizzare gli spazi, consegna al punto di utilizzo, servizio su carrello e servizio su scaffale. Con il servizio di consegna al punto di utilizzo, Medline recapita i prodotti nelle loro scatole di cartoni originali in carrelli a gabbia nei diversi reparti all'interno dell'ospedale. Con il servizio su carrello disimbagliamo e posizioniamo i prodotti su carrelli sigillati in un'area dedicata di un magazzino Medline. Questi carrelli vengono quindi chiusi a chiave, caricati e consegnati vicino alla sala operatoria. Il personale di sala potrà così utilizzare i prodotti agevolmente ogni volta che ne ha bisogno. Il carrello contiene tutti i prodotti necessari per numerosi interventi chirurgici. Medline può ordinare i prodotti per codice articolo, chirurgia, numero della sala operatoria e giorno dell'intervento. I ripiani nel carrello possono essere dotati di etichette descrittive degli articoli o codici a barre. Con il servizio su scaffale, se necessario, l'autista passerà per il percorso sterile indossando l'abbigliamento adeguato prima di entrare nell'area di stoccaggio. L'autista della Medline disimballa e sistema i prodotti nella loro rispettiva posizione di stoccaggio o nelle scaffalature all'interno dei reparti. Tutte queste opzioni di consegna comprendono lo smaltimento degli imballaggi quando si raccolgono i carrelli vuoti e i carrelli a gabbia della consegna precedente, in modo che il vostro blocco operatorio rimanga sempre pulito e accessibile. Oltre ai nostri servizi di consegna, offriamo anche diverse soluzioni di gestione delle scorte. Un esempio è Medstock, un'applicazione software gestibile via web che consente di monitorare e mantenere i livelli di inventario nei magazzini e suggerisce quando reintegrare i prodotti in base al consumo. Il sistema vi aiuterà ad allocare il consumo del prodotto a diversi centri di costo e pazienti. I distributori di dispositivi di protezione personale sono distributori automatici di prodotti monouso, come ad esempio le divise, e possono aiutare a monitorare l'utilizzo di articoli monouso da parte del personale ospedaliero e dei visitatori. Gli utenti si identificano con il loro badge o tramite password e selezionano la taglia degli indumenti di cui hanno bisogno. Anche in questo caso il consumo può essere assegnato a un centro di costo. I servizi logistici di Medline non si svolgono soltanto all'interno della struttura ospedaliera. Forniamo anche prodotti medici post-chirurgici direttamente al domicilio del paziente in giorni prestabiliti, aiutando il paziente a risparmiare tempo e denaro. Le soluzioni logistiche di Medline vi faranno risparmiare spazio, tempo e denaro. Così potrete concentrarvi su ciò che sapete fare meglio e che vi sta più a cuore, prendervi cura dei pazienti. Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni logistiche o altri prodotti e servizi di Medline contattate il vostro rappresentante locale o visitate il sito www.medline.eu